Buongiorno amici, oggi porto mamma sul quad L'ultima volta che sono andata era Marrakesh, non era andata molto bene Però non mi arrendo, non mi arrendo Sei preoccupata? Si Che bello Questa è la situazione momentanea Tutte due giacche di jeans comunque Ci hanno detto che saliremo fino su Alteide Dove al momento ci sono meno 6 gradi Questo è il nostro amazing mezzo di trasporto Ho fatto la pausa a cappuccio Fa un freddo allucinante Non mi sento più il pollice a guidare Hai commenti da fare? Ha un freddo boia, a me non mi fa male il pollice E... È stato un ganso finora Mamma dice che non fa male le chiappe Ma sì perché oltretutto ci sono venuti addosso Una signora ha deciso proprio di entrarci dentro col quad Ma vabbè Al momento siamo qua Faccio quasi paura con queste trecine Gli occhiali da sole in questa faccia Eh, sono strana eh Stavi meglio un po' più dolce con quelli gialli Ah, questi che arriva un po' eccessivi Un po' cattivi Stavi più fortale Grazie a tutti